Non poto riposare amore e coro, pensendo a Dio con Ginoventù. Unino all'amore che tocca il cuore dei sardi, ma anche di chi, pur non comprendendone tutte le parole, rimane affascinato dalla sua melodia. È la canzone adiosa, conosciuta universalmente come Non poto riposare, il cui testo è stato composto da Badore Sini, poeta e avvocato, e musicata dal maestro Giuseppe Rascelli. Ora Non poto riposare è la protagonista di un video realizzato da Renzo Gualà con la direzione artistica di Alessandro Cate, la cui realizzazione è stata promossa dall'associazione Presenza di Nuoro, presieduta da Ignazio Corrias. Un'impresa culturale e artistica che ha visto la riunione, fatto storico e si spera replicabile, dei sette cori cittadini che hanno eseguito il brano con la partecipazione del tenore nuorese Piero Preti. Il video è stato presentato ufficialmente ieri nel corso di un evento ospitato in piazza Sebastiano Sata, nel quadro delle manifestazioni in onore di Badore Sini, cui ieri mattina la città di Nuoro ha intitolato Il benvedere di Viale Ciusa. Nel video il coro di Nuoro, gli amici del folklore, sul Nugoresio, sul Canarios, il coro Ortobene, il coro Nugoramada, il coro Barbagia, eseguono non potere posare in alcuni dei luoghi simbolo della città, il Monte Ortobene, il Redentore, la Chiesa della Solitudine, il Monastero di Cucurlio, il Nuraghe di Tancamanna, per poi concludere il tutto in piazza Sata. Alla presentazione del video è seguito un concerto, presentato da Giuliano Marunge e da Franca Masu, che ha visto l'esibizione di tutti i cori nuoresi. Un evento che è chiuso degnamente questa prima fase del progetto Adiosa, che vuole anche essere un biglietto da visita per la candidatura di Nuoro a Capitale Italiana della Cultura 2020. Il video non potrà lasciare indifferenti i commissari che dovranno effettuare la scelta.